Allora, in teoria non si apre la bocca non si fa rumore. Con la bocca chiusa? Generalmente lentamente. C'è un numero esatto. Così dicono. Non credo di aver mai contato prima. Non ci sarà un massimo, non ci sarà un minimo. Ma almeno otto e quattro. Due o tre volte. Tre. Quattro? Dipende dalla consistenza. Da cinque a dieci. Sei volte. Dieci? Venti. Venti volte penso. Perché se fai ventuno... Anche trentatré. Trentacinque. Quagantacinquanta. Duemila. Ma è impossibile. Ma no, ogni boccone ho tutto. No, ogni boccone. Tante. Ma non è vero, perché imbocchiamo tutto e poi giù subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.